E di almeno tre morti, il bilancio provvisorio di una sparatoria avvenuta nella contea di Hereford, nel Maryland, Stati Uniti, ad aprire il fuoco in un centro di distribuzione della catena Wright Aid, un franchise di farmacie, è stata una donna di cui non sono ancora state rese note le generalità. La salitrice è stata gravemente ferita nello scontro a fuoco con la polizia e si trova ora ricoverata in un ospedale locale. L'incidente arriva a meno di 24 ore da altre due sparatorie avvenute in altre due zone degli Stati Uniti per un totale di almeno 12 morti.